appassionati di futsal buon poveriggio d'antonio iozzo e benvenuti al pala di fiore per lido di ostia feldi eboli 24esima giornata del campionato di serie a adesso la prima gestione del lido con poletto gattarelli se ne va gattarelli calciamale apertura sulla destra lui signo capo cannoniere della feldi con 13 gol in campionato lancio lungo per romano che mette mezzo patias spreca così occasione gigantesca raul e roccia che va in avanti da poletto si vuole girare ci riesce dal cin strepitoso lui signo ritmi altissimi lui signo centralmente roccia poi barra 3 contro 1 per il lido barra avanza il capitano per roccia roccia fermato da dal cin non sono mancate le occasioni le emozioni qui al pala di fiore entrambe le squadre cercano il gol del vantaggio adesso gattarelli va a sfiorare il palo in istirata il gatto il 21 scucchiaia romano al volo di punto allontana poi la conclusione di grello sul muro difensivo del lido attenzione al numero 11 1 contro 1 motta va con il destro dal cine con il piede per roccia roccia in avanti e gerson con il tacco sblocca il match 1 a 0 lido a 14 secondi dalla sirena grande gol di gerson il terzo in campionato sul punto di battuta pronto l'89 a dare il via al secondo tempo fischietto in bocca si riparte poletto per gattarelli e ancora poletto riceve il pallone poletto per pasetti pasetti dal cin e paimotta murato da lui signo ancora lido con gattarelli pallata sopra la traversa tres in avanti danicino suolata romano impegna di ponto che alza sopra la traversa si attende il fisco il direttore di gara arriva adesso allora roccia con la rincorsa con il destro roccia un cecchino 2 a 0 lido al sesto del secondo tempo si accentra torna da lui signo saltato motta che poi recupera il pallone tre contro uno per il lido attenzione a pasetti pasetti pronto per il destro dal cine chiude lo specchio poteva fare decisamente di più il lido perché gattarelli recupera l'ennesimo pallone della sua partita poi poletto si distende poletto poletto dal cine in fallo laterale power play fel di eboli a caccia della rimonta lui signo l'errore barra con la porta vuota palla sul palo si salva la fel di graziata patias in area di rigore di punto salva e poi lui signo sul secondo tentativo non trova la porta tres all'indietro patias tres si gira alla grande entra in area di rigore mette in mezzo lido si chiude poi roccia per motta può ripartire la formazione di angelini motta motta in mezzo per poletto poletto spreca in maniera clamorosa la palla del 3 a 0 grello va da caruso lui signo in aria mette in mezzo occasione sprecata da tres in maniera incredibile grello avanza il 21 va da caruso e poi patias porta vuota accorcia le distanze meno 1 fel di eboli con la rete di patias a lottare in mezzo al campo fermato poi motta recupera il pallone cerca cutrupi che cambia passo poi mette in mezzo gattarelli da cin fenomenale per grello lui signo malissimo e allora parte la festa del lido di ostia 2 a 1 alla fel di eboli grazie ai gol di jetson e roccia sul rigore un successo fondamentale in ottica salvezza